Alla fine il fatidico incontro resa dei conti tra il PD regionale e il presidente Eugenio Gianni non si farà. Il chiarimento si era reso necessario all'indomani del dissenso espresso dai consiglieri Dem rispetto alla scelta del presidente di tenere aperti supermercati e centri commerciali per il 1 maggio, l'ultimo capitolo di una serie di scelte poco condivise, o almeno questa la versione dei consiglieri più agguerriti. Per questo alle 18 di oggi era previsto un incontro che tuttavia è stato rimandato a giovedì prossimo. Cause sconosciute, ma di certo sarà l'occasione per un passaggio intermedio, un vertice di maggioranza tra PD e Italia Viva insieme alle forze che sostengono il governatore Gianni. Un vertice che può essere letto come sintomo di una situazione ancora più critica di quanto apparisse finora. Un conto, infatti, era il chiarimento interno al partito, in cui i militanti avrebbero chiesto maggiore comunicazione e inclusione. Altro discorso, invece, è aggiornare con la maggioranza di governo l'agenda politica della Giunta, riguardo cioè le azioni concrete messe in campo. Come ad esempio l'ultima decisione del Presidente, anche questa apparentemente non concordata, di inaugurare stamattina un nuovo click day per i vaccini agli over 65. Un click day che è divenuto ben presto un click hour, visto che a disposizione c'erano soltanto 9.500 dosi Johnson & Johnson che sono andate via nel giro di pochi minuti. E pensare che proprio dal gruppo del PD in regione era arrivata la richiesta di smettere con le prenotazioni fatte in questo modo, che finiscono per creare frustrazione tra i cittadini. Chiuso il portale già alle 9.20, è stato poi riaperto grazie a 92.000 dosi Pfizer con somministrazioni da programmare per tutto il mese fino a domenica 30 maggio. Ma il tutto è stato un po' confusionario e mal comunicato. Non era meglio aspettare di avere qualche dosi?